Un concorso regionale di arte scultore al fine di realizzare è stato in bronzo che serviranno a commemorare le vittime del terremoto del 2009, opere che saranno destinate ai comuni e alle frazioni dell'Aquila. Un'iniziativa oggetto di una proposta legislativa che ha visto come primo firmatario il consigliere regionale aquilano Amerigo Di Benedetto e che ha raccolto il consenso univoco di tutte le forze politiche del Consiglio regionale. Questa mattina alla conferenza di presentazione, oltre il proponente, hanno partecipato i due vicepresidenti Roberto Sant'Ancelo e Domenico Pettinari. Una legge credo che abbia anche questo come segnale originale sottoscritto da tutti i consiglieri regionali prima della presentazione nelle commissioni competenti. Credo che anche questo sia un sognale di grande presenza che ha voluto dare il Consiglio regionale sul discorso del sisma, delle vittime del sisma, del decennale della ricorrenza di quegli accadimenti. E lo facciamo attraverso una istituzionalizzazione della giornata della memoria, a complemento di tutte le altre iniziative che verranno fatte in città e che sono state fatte negli ultimi anni, con un'idea in più, un'idea di una memoria apparente e dinamica, diffusa sul territorio, inglobando anche gli altri comuni che hanno avuto delle vittime, e con un posizionamento attraverso una selezione che verrà fatta con un concorso internazionale di arte scultorea, di statue per l'appunto, sulla falsariga di quelle bronze che sono a Budapest, che nel momento in cui esisterà l'immemoriale, cioè in vita non ci saranno più persone che ricorderanno quegli accadimenti, si incontreranno necessariamente visitando i nostri luoghi. Perché vedete dove c'è un'area dedita alla memoria, alla riflessione, è chiaro che la si va a cercare se si conoscono gli eventi. Il vicepresidente vicario del Consiglio regionale ha ribadito l'importanza della legge per trasmettere e conservare la memoria di quanto accaduto. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo finalmente istituisce una legge per ricordare ogni anno la memoria del terremoto del 2009 che ha colpito il capoluogo di regione e tutte le aree del cratere. Senza memoria non può esserci futuro e quindi diciamo che attraverso un concorso internazionale di arte scultorea vogliamo riproporre delle scene di vita attraverso alcune statue che verranno posizionate all'interno delle aree più significative del cratere per dare memoria alle generazioni future che verranno. Un pensiero condiviso da Domenico Pettinari che ha parlato di una norma che servirà a far riflettere le nuove generazioni. Una norma viene approvata all'unanimità significa che la massima espressione democratica della regione Abruzzo è una buona norma, una norma importante che vuole tenere viva la memoria affinché nessuno più dimentichi cosa è accaduto. E io dico quando nessuno dimentica anche tra 40 anni, 50 anni, 60 anni quando non ci saremo più noi, sopravviverà a noi questa norma. Ecco, i nostri figli e coloro che verranno dopo potranno capire e non fare più gli sbagli che ha fatto questa generazione perché quando accadono determinate cose, se si può sempre fare meglio, migliorare la nuova ingegneria, la nuova architettura, possiamo evitare tante volte tante catastrofi. Ecco, una grande responsabilità della nostra generazione e questo manterrà viva la memoria questa norma e farà sì che gli errori che si sono commessi in questi anni non si possono commettere più.